Ciao, questo video è per presentare, far conoscere e informare sul progetto Genesse. Genesse nasce nel 2009 dai fondatori Randy Ray, Wendy Lewis e Scott Lewis. Randy e Wendy erano già in pensione dei pensionati benestanti e avevano avuto diverse imprese nella loro vita. E che diciamo non avevano bisogno sicuramente di fondare Genesse. Randy ha contribuito allo sviluppo di un software che tuttora utilizzano la NASA, mentre Wendy è una donna molto influente nel business ed ha avuto tantissimi riconoscimenti come proprio donna più influente al mondo. Scott invece è il nostro visionario, cioè quello che porterà l'azienda veramente a fare dei numeri pazzeschi. Pensate che Genesse distribuisce i propri prodotti in più di 140 paesi al mondo, che se non esistessero dei prodotti eccezionali e non ci sarebbero i numeri che adesso andremo a vedere, ma soprattutto in così tanti paesi è un'azienda veramente sana e veramente vincente. Ecco, il sesto anno di vita Genesse fattura un miliardo e 400 milioni di dollari, solo al sesto anno, che aziende come Google, Apple, Amazon avevano fatto in solo sei anni. Quindi parliamo di una... pensate a quanto è importante questa azienda e che livelli di fatturati sta facendo. Quindi questo per farvi capire a livello mondiale di che attività, di che impresa stiamo parlando. Si avvale di un team scientifico, una delle poche aziende di network che ha un proprio team scientifico e esponenti come il dottor Nathan Newman, che è un dermatologo e chirurgo estetico di Beverly Hills, che fa parte dell'OMS, quindi a livello mondiale, è quello che ne sta di più della nostra pelle, fa parte del team scientifico di Genesse e è da lui che nasce effettivamente grazie all'incontro con Nathan Newman che nasce Genesse e dopo lo andremo a vedere. C'è Vincent Giampappa, che è colui che ne sa di più a livello di nutraceutica, di anti-aging, di ringiovanimento cellulare, candidato al premio Nobel nel 2014 e ha formulato degli integratori veramente straordinari. Il dottor William Anzalag, uno scienziato che ha un canale YouTube, Longevity TV, che vi invito ad andare a vedere i suoi video sui prodotti, dove spiega tutta la tecnologia che c'è dietro al prodotto, ma in maniera veramente semplice, è molto molto bravo. E in ultimo la dottoressa Anta, che si occupa invece di cosmeceutica. Andiamo nel vivo, i nostri prodotti. Genesse ha creato un sistema YES, un sistema di ringiovanimento cellulare, quindi della linea dell'integratore nutraceutica, quindi che va ad agire all'interno del nostro corpo, e la linea della cosmeceutica, quindi delle creme e non solo, che vanno ad agire invece sulla nostra pelle. Ecco che questo sistema è un sistema proprio di ringiovanimento cellulare e si è avvalsa dei brevetti più importanti al mondo, che ha solamente in esclusiva GNS come distribuzione. Quindi ha toccato quelle che sono le macro-categorie, come il benessere, l'estetica, la perdita di peso, l'integrazione, l'energy drink, che sono le categorie che ad oggi non hanno risentito assolutamente della crisi, anzi sono in costante aumento, e si è avvalsa proprio di questi settori per lanciare i propri prodotti su commercio, prodotti che sono unici al mondo. Ad esempio vediamo come nasce appunto Genesse. Nasce dall'incontro con il nostro dottor Nathan Newman, che appunto è un dermatologo di Beverly Hills, e rendirei cura presso la sua clinica di Beverly Hills per una problematica al ginottio. Notano sulla scrivania del dottor Newman una boccettina, una bottiglietta, e i curiosi ti chiedono che cosa ci fosse all'interno. Bene, il dottor Nathan Newman aveva brevettato un sistema dove era riuscito ad estrapolare dalle cellule staminali umane dei fattori di crescita, e pensate che all'interno della nostra linea di un minascio ci sono oltre 200 fattori di crescita. Ma che cosa sono i fattori di crescita? Sono dei messaggeri che vanno a parlare con le nostre cellule, che gli vanno a dare quei... a riautare, a fare quelle funzioni magari che non sono più in grado di fare, quindi va a rigenerare la nostra pelle, magari gli dà l'input di produrre più collagene, di produrre più elastina, di andare a sfiammare l'infiammazione. Quindi va ad aiutare proprio le nostre cellule a lavorare in maniera perfetta. Ecco che i benefici li avremo a livello di acne, di rughe, di dermatiti, di psoriasi, di bruciature, di ustioni, di cicatrici, di smagliature, qualsiasi tipologia di anestetismo che ha la nostra pelle. Ok? Quindi è un prodotto veramente eccezionale, perché all'interno ha qui di 248 fattori di crescita, e pensate che nell'umano sono codificati 260, quindi quasi la totalità. Successivamente è stata creata tutta la linea, quindi con la crema giorno, fattore di protezione 30, che ci dà un'idratazione meravigliosa per tutto il giorno. La crema notte che invece di notte va a rigenerare il nostro DNA, a riparare la nostra pelle, quindi la mattina ci svegliamo con una pelle ridicalizzata. La crema corpo che è associata al siero, è meravigliosa per andare a tonificare, andare a rassodare, a idratare profondamente, va a combattere quelli che sono gli anestetismi di cellulite e smagliature. Abbiamo un illuminante che va a ridurre notevolmente le macchie, va a minimizzare la visibilità dei pori e ci dà una pelle di porcellana. Il cleanser, che è un detergente che va a lavorare molto in profondità, va a rimuovere le impurità in profondità, mantenendo la nostra naturale idratazione della pelle. Questo ci aiuta proprio ad assorbire meglio i componenti della linea illumination. E in ultimo, una maschera liftante, una maschera che è tenuta in posa dai 20 ai 40 minuti, si toglie come una seconda pelle e ci lascia un lifting, una paiera sodata, luminosa, veramente che si vede benissimo il prima ed il dopo. E questo effetto dura più o meno uno o due giorni. Poi abbiamo la linea della nutracertica, quindi iniziamo con Reserve, che è un antiossidante potentissimo. Come sappiamo l'ossigeno è vitale, ma purtroppo ossida. Quindi per andare a combattere questa ossidazione abbiamo bisogno di tantissimi antiossidanti, quindi come tutti i componenti della frutta rossa, resveratrolo, bacca di assai, aloe vera, tè verde, quindi tutti questi componenti li troviamo all'interno del Reserve. E ci aiuta tantissimo per la circolazione, per le vene, per rinforzare il sistema immunitario, per andare a lavorare come antinfiammatorio naturale, quindi per i dolori articolari, i dolori alle ossa, per ridurre quelle che sono le infiammazioni anche di... quelle per le allergie, ok? Quindi per non usare gli antinfiammatori, gli antistaminici, ecco che possiamo fare dei cipi di Reserve, aiuta tantissimo per l'energia quotidiana, quindi per il benessere quotidiano per stare bene. Finiti, Finiti Premio Nobel 2009, hanno scoperto che all'interno di una pianta cinese della stragalo, ci sono dei... c'è un enzima che è capace di riallungare i nostri telomeri, che cosa sono? I telomeri sono le estremità dei nostri capucetti del cromosoma, quelli che le proteggono durante la dominazione cellulare per non perdere il codice genetico. Ecco che questi cappucci normalmente si accorciano con l'allare del tempo, con la duplicazione, e quando si accorciano, prima che la cellula muoia, danno via la nascita di patologie, perché la cellula diventa senescente e quindi attacca tutte le cellule circostanti. Quindi per evitare, diciamo, questo invecchiamento precoce, andiamo a usare il TA65 Nelfiniti, che abbiamo in esclusiva a noi di GNS, in tutto il mondo, che è in grado di andare in sei mesi a riallungare tutti i nostri telomeri, quindi a mantenerci più giovani, a rinvertire il processo di invecchiamento, quindi a ringiovanire a livello cellulare, avremo dei benefici come sui capelli, le unghie, proprio uno stato di benessere, sulla concentrazione, sulla perdita di grasso, cioè andrà ad aiutare anche per la densità ossa a migliorarla, a migliorare la flessibilità delle articolazioni, quindi i benefici sono straordinari, anche come un rinforzamento proprio di difese immunitarie. E si fanno circa di sei mesi, in sei mesi i nostri telomeri verranno completamente riallungati. Straordinario questo integratore. Zen, ultimo arrivato della linea nutraceutica, Zen Project Aid, è proprio un progetto che ci aiuta a raggiungere il benessere e la forma fisica, quindi andrà bene per chi dovrà bruciare i grassi, andrà bene per chi dovrà perdere peso, andrà bene per chi dovrà tonificare, andrà bene per chi ha bisogno di massa muscolare, va bene per qualsiasi persona, un programma intelligente che in automatico va a capire quello che ha bisogno il nostro fisico. E ci sono tre fasi da seguire per due mesi, depurare, scolpire e rafforzare. Quindi andiamo a depurare il nostro organismo da tutte le tossine, andiamo a migliorare la formazione dei nostri muscoli, andiamo ad aumentare quello che è il metabolismo e quindi la perdita di grassi e soprattutto avremo una muscolatura molto più tonica. Nivo è un integratore fantastico, c'è chi lo chiama energy drink, ma è molto limitante. In realtà è un integratore perché contiene il complesso delle vitamine B, guaranà, gli erbamati, che ci aiuta tantissimo a darci una grandissima concentrazione, un'attenzione, un'energia molto pulita, nel senso che non avremo tachicardia, non avremo taurina all'interno del Nivo. Ha solo 50 calorie, il 20% di succo di frutta, di vero succo di frutta, e lo troviamo in quattro gusti. Ci dà proprio un'energia sana, quindi non avremo un picco di energia per poi avere successivamente un down, ma bensì avremo un'attenzione, un'energia costante per diverse ore durante la giornata. Con il caldo, con la spossatezza, per chi ha mal di testa, aiuta anche a contrastare quelli che sono le mitrani e il Nivo. È meraviglioso, lo possono prendere anche i ragazzi per chi studia, per chi fa sport, va benissimo per tutti quanti. Della linea, diciamo, viso, abbiamo i Stantili Ageless, che è un prodotto che noi chiamiamo Effetto Cenerentola, è un prodotto wow, perché in due minuti è in grado di liftare completamente il viso, senza usare nessuna iniezione. Ecco, è una crema che va picchiettata dove abbiamo borse, dove abbiamo rughe, dove abbiamo cicatrici. In due minuti avremo proprio un effetto lifting immediato. Questo, come l'ho detto, chiamiamo Effetto Cenerentola perché purtroppo dopo 10, massimo 12 ore, questo effetto svanisce e quindi torniamo ad essere noi stessi. Però è un prodotto che possiamo tenere in borsa, quindi nei momenti del bisogno possiamo picchiettarlo ovunque noi siamo. Ecco che ci dà proprio subito un effetto lifting. Qua possiamo vedere anche già dopo neanche un minuto come va a lavorare di riduzione della borsa, quindi veramente fantastico. In ultimo noto invece della linea cosmeceutica abbiamo Envy. Envy è un trucco dove praticamente abbiamo due tecnologie importantissime e dopo le andiamo a vedere. È un trucco di tre prodotti, quindi il primer che fa una base e va a uniformare il viso, un foundation che ha un fondotinta e un bronzer che ha una terra, un bronzante naturale effetto dorato che è stupendo. Questi prodotti hanno la tecnologia dell'airbrush ovvero dello spray, quindi anche per chi è meno esperto nel truccarsi avrà un trucco perfetto, avrà un viso perfetto, prenderà ogni angolo del proprio viso, quindi è quello che utilizzano i make-up professionisti, però diciamo che lo possiamo usare anche noi a casa anche se non siamo dei professionisti, quindi lo possono usare veramente tutti, uomini, donne e con questo abbiamo oltre a una copertura del viso stupenda ma non lo sentiamo sulla pelle, è leggerissimo, si trasferisce, è resistente all'acqua, lo togliamo esclusivamente con uno struccante, quindi tutto il giorno rimaniamo perfette. E la seconda tecnologia è quella della PT200, quindi contiene quei fattori di crescita come la linea Luminash, quindi mentre ci truttiamo che siamo perfette, ecco che ci andiamo anche a curare, quindi veramente è favoloso, una grande tecnologia. Ma cosa c'è dietro a tutti questi prodotti? I prodotti vengono distribuiti tramite il natural marketing, che è un metodo di distribuzione che io non conoscevo, come detto all'inizio avevo tantissimi pregiudizi, ma in realtà è quella cosa che soprattutto in Italia siamo veramente bravi a fare, ovvero se qualcuno chiede o noi andiamo a chiedere un ristorante, un parrucchiere, ognuno di noi, qualsiasi persona è in grado di consigliarci un ristorante dove mangiare, un parrucchiere dove andarci a tagliare i capelli, perché? Perché ci sono stati, perché si sono trovati bene e quindi sono in grado di consigliarlo. Ecco, il network marketing è questo, un passaparola al consigliare il prodotto o il servizio a qualcuno, se naturalmente ci siamo trovati bene. Quindi niente di più e questo mi è piaciuto tantissimo perché in Italia effettivamente sta prendendo molto più piede ed è qualcosa che facciamo quotidianamente e normalmente tutti i giorni. Ma andiamo a vedere qual è la differenza tra le aziende tradizionali come commercializzano i loro prodotti e le aziende di network. Le aziende tradizionali producono un prodotto e tramite tantissimi passaggi, quindi dall'esportatore all'importatore fin via 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 arrivare al cliente finale hanno tantissimi costi e quindi ogni di questi intermediari dovrà guadagnarci. Questo alza il costo del prodotto finale ma per di più per far conoscere i propri prodotti utilizzano la pubblicità e che è un qualcosa di molto costoso. Proviamo solamente a pensare quanto si può far pagare pennello per i cruz per farci credere che utilizza la tinta della lore per coprire i capelli bianchi. Effettivamente al di là che ci credono veramente in pochi questo costo del testimonial va ad alzare il costo del prodotto finale del 2300. Quindi effettivamente quando andiamo a comprare un prodotto qual è il suo valore? Ok? Mentre le aziende di network producono il prodotto lo fanno arrivare direttamente a casa del cliente finale grazie al consiglio del distributore. Ecco che questa è la pubblicità dicono che il cliente è contento e la migliore pubblicità al mondo. Effettivamente è così. C'è il passaparola che noi facciamo lo facciamo perché ci siamo trovati bene e ci viene naturale consigliarlo. E l'azienda a questi costi di pubblicità che non sostiene le investe nella ricerca nello studio delle altissime tecnologie e dei nuovi prodotti e le reinveste e le ridistribuisce nei distributori che dice grazie per aver consigliato il mio prodotto io ti pago per questo. Quindi è straordinario il passaparola che veramente è la migliore pubblicità al mondo. Ma non lo dico io. Lo dicono grandissimi economisti grandissimi imprenditori una delle persone più ricche e importanti al mondo. Prendiamo Bill Gates in una intervista gli hanno chiesto signor Gates se dovesse ricominciare da capo ripartire da capo da cosa ricomincerebbe? Allora lui dice dal network marketing perché veicolerei farei conoscere al mondo i miei prodotti che avrebbero un'altissima qualità una qualità molto più alta ad un prezzo decisamente inferiore alla portata di tutti pensate un po'. E anche Donald Trump per quanto magari non ci possa piacere come personaggio lui vende i propri immobili attraverso il network marketing quindi vi invito veramente ad andare a vedere cosa c'è dietro. I benefici che troviamo ma che mi sono piaciuti tantissimo che mi hanno fatto innamorare di questa attività è che è un'attività rapportata di tutti dal 18enne all'ottantenne maschio femmina di qualsiasi sesso di qualsiasi estrazione sociale dall'operaio alla commerciante alla barrucchiera alla casalinga qualsiasi persona può fare il network marketing perché si può fare da casa si può fare nel tempo libero part time full time pensate che è un business di relazione di persone quindi noi ci troviamo tutti i giorni a parlare con le persone quindi è per quello che in Italia siamo molto bravi non servono competenze straordinarie non ci vogliono titoli di studio non ci vogliono conoscenze non serve un'esperienza lavorativa precedente perché qui si impara tutto da zero e si impara dai migliori si impara attraverso il team e soprattutto gratuitamente e a zero la concorrenza due aspetti fondamentali e Genesse va a cercare i migliori prodotti quindi li distribuisce unicamente lei nel mondo quindi c'è solo lei che ha questi prodotti i prodotti sono unici quindi non ci sono altri sul commercio quindi questo a zero la concorrenza ma molto bello l'aspetto che non siamo noi doverci occupare dello studio di impiegare risorse economiche risorse di tempo di scienza per andare a sviluppare e cercare un prodotto ma è Genesse che si occupa tutto si occupa dei prodotti si occupa di darci un brand e tutti gli strumenti necessari per fare l'attività questo è straordinario fai hai un'attività di impresa senza dover occuparti della gestione di tutto questo meritocratico stupendo ad oggi finalmente un business dove se lavori guadagni se non lavori non guadagni e non solo è un business altamente altruistico se con i nostri collaboratori non li aiutiamo non collaboriamo non ci non ci sosteniamo a vicenda non cresceremo perché se non crescono loro non cresciamo neanche noi quindi veramente un business altruistico legge 173 del 2005 qui vi invito veramente ad andare a fondo a vedere che cos'è il network marketing legge che tutela il network marketing e la tassazione è il 18% cosa vuol dire? che nell'azienda tradizionale troviamo dal 60 al 67% di tassazione cioè più della metà del lavoro che noi facciamo va in tasse qui il 18% straordinario perché non fa cumulo con altri redditi cosa vuol dire? che se io ho già uno stipendio che mi viene dal mio lavoro ho una rendita che mi viene da una rendita scusate immobiliare che mi viene dagli affitti da qualsiasi cosa e non fa cumulo non devo dichiarare nella dichiarazione dei redditi perché vengono già passati alla fonte dall'azienda fantastico lavori con chi vuoi quante persone sento che si lamentano del collega del capo di tutti i colleghi di lavoro qua finalmente possiamo lavorare con chi vogliamo noi beh finalmente non c'era pesantezza sotto quel punto di vista anzi ultimo aspetto zero investimenti zero rischi qual è quella attività che nel 2017 ci dà la possibilità di fare impresa senza dover investire senza rischi senza avere dei rischi quindi quando io ho visto questo ho detto non ho effettivamente trovato ragioni per le quali io non debba farlo assolutamente ma entriamo nel vivo abbiamo detto che Genesse ci paga se noi costruiamo il prodotto andiamo a vedere in quali modalità sono sei modalità di guadagno tutte quante cumulabili partiamo dalla prima quando noi ci iscriviamo Genesse ci dà un sito internet e-commerce che lei gestisce a nostro nome ok quindi qua abbiamo la possibilità di far conoscere subito la nostra attività di mandare il link del nostro negozio a Marco e dire Marco guarda guarda il mio nuovo negozio i prodotti se c'è qualcosa che ti piace lo selezioni lo metti nel carrello lo paghi e ti arriva direttamente a casa in questo caso Genesse ci riconosce il 35% sulla vendita la stessa percentuale del 35% ce l'abbiamo noi come sconto su tutti i prodotti all'interno del nostro negozio quindi vantaggioso anche per noi secondo aspetto che invece qua riguarda più il lavoro di squadra che è la cosa che è piaciuta di più a me è il bonus ciclico ovvero team commission Genesse ci dice devi creare due squadre commerciali una di destra ed una di sinistra coinvolgi i tuoi amici fai diventare i tuoi collaboratori collaborati insieme ed ogni volta che nella squadra qualcuno acquista o vende un prodotto si generano dei punti e una volta arrivati a 300 punti in una squadra e 600 dall'altra ci viene riconosciuto un ciclo pari a 32 euro inizialmente possono sembrare un po' pochi ma vi assicuro che pensate quando io mi trovo bene con un siero che lo consiglia e una mia amica che lo consiglia e una volta un'altra amica che lo consiglia il consiglio del consiglio del consiglio si crea una rete incredibile ma di consumatori di clienti che amano il prodotto questo genera un fatturato ok questo va a generare sempre più cicli però questo è l'unico guadagno che ha un mini un massimale ovvero 750 cicli la settimana che corrispondono a 26.000 dollari ma credo che è un compromesso a cui possiamo anche conviverci insomma e terzo metodo sempre di squadra è il matching bonus ovvero se io aiuto i miei collaboratori a crescere quindi a far conoscere i loro prodotti i prodotti ai loro amici quindi avere clienti ad avere amici che vogliono consumare il prodotto loro a loro volta genereranno dei punti genereranno dei cicli ok e Genesse dice grazie Silvia per aver fatto crescere Marco e aiutarlo a crescere io ti riconosco su Marco che è la tua prima linea il 20% e così via Genesse ci va a pagare fino al 5% di percentuale sui cicli dei nostri collaboratori ecco che non li va a togliere i nostri collaboratori ma le dà in più questo è un aspetto che di Genesse mi è piaciuto veramente tantissimo ma vi invito in ultimo a fare una valutazione tante volte sento che le persone dicono che consigliano i prodotti che chiacchierano tantissime volte gratuitamente ok lo facciamo gratis e ma non dici che è difficile arrivare a fine mese non dici che vorresti cambiare la tua vita migliorarla attraverso magari quei 100 200 500 euro in più al mese per fare qualcosa che poi se ci pensiamo facciamo da quando sei nato soprattutto siamo nati soprattutto in Italia perché ci riesce davvero bene parlare con le persone noi siamo un popolo veramente di chiacchieroni e quindi perché non lo fai come attività imprenditoriale magari accogliendo appunto Genesse questa azienda straordinaria dicendo io farò conoscere questi tuoi prodotti alla società questo è il network marketing non è niente di più l'invito veramente ad informarvi perché se io stessa mi fossi fermata al mio pregiudizio ho sentito dire a quest'ora sicuramente non sarei qui non avrei giovato dei benefici che mi hanno dato sia i prodotti che comunque i piano compensi quindi dico se vuoi iniziare questa avventura puoi farlo con un'azienda che ha già 50 anni di attività che ormai conoscono anche i muri oppure puoi entrare in Genesse che è un'azienda sana giovane che in solo 6 anni ha visto una crescita di fatturato mai visto cioè l'unica azienda in 6 anni di vita che ha fatto un miliardo di fatturato che solo Google Apple Amazon e Facebook c'erano riusciti quindi è il terzo progetto al mondo per crescita e ad oggi è appena nata in Italia e siamo veramente veramente pochissimi quindi è qualcosa che ci può essere una visione veramente grandissima quindi è un business molto gratificante perché ognuno di noi qui può scegliere può decidere quanto investire di tempo per parlare con le persone quanto guadagnare e non ci sono limiti cioè in due anni se lavori puoi anche arrivare a guadagnare 2.500 euro al mese quindi qua vi invito veramente a riflettere e andarvi a informare e prepariamoci ragazzi perché il network marketing è veramente il business del futuro grazie a tutti Grazie a tutti